ciao cristina ciao ciao a tutti questa sera una sorpresa abbiamo un nuovo nuovo il primo ospite che inaugura i grandi ospiti che avremo in magic suite e abbiamo con noi cristina cristina devo dire devo innanzitutto ringraziarla perché è la persona che mi ha introdotto in questo magico mondo degli oli essenziali che come avete come sapete per me è stata una grande scoperta e anche un'opportunità di di business quindi sveliamo il segreto c'è cristina e tra l'altro non è l'unica giusto nel team do terra perché loro sono la famiglia do terra giusto siete tutti delle degli affezionati agli oli vero sì sì vai vai io sono un estetista e insieme alla mia collega un giorno una mia amica è venuta per fare un massaggio e mi dice che era stata a un corso per per odio essenziali eh a noi questa cosa è piaciuta tanto c'è interessato perché noi stavamo per aprire uno studio nuovo di estetica e li volevamo introdurre quindi abbiamo partecipato anche noi a questa riunione e da lì ci si è aperto veramente un mondo e abbiamo cominciato a decidere di usarli all'interno del nostro studio sì infatti io so tra l'altro questo non era concordato io so di un sacco di persone che vanno da cristina e nel suo centro estetico eh proprio perché eh loro hanno un modo diverso di approcciare anche all'estetica no ed è una grossa novità soprattutto eh perché usano delle formule con gli oli essenziali che adattano alle persone correggimi se sbaglio ma con un discorso è una grandissima conoscenza sugli oli essenziali eh che è veramente da pochi eh anche nel mio team le altre persone una preparazione come quella di cristina è veramente eh unica devo dire infatti è il mio riferimento quando devo chiedere o tanti ci scrivono perché vogliono consigli eccetera io tante volte vero cristina chiedo aiuto perché lei è veramente molto 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 preparata quindi eh intanzi ringrazio ancora Cristina per questa sua disponibilità e grande preparazione insomma Cristina raccontaci un po' dai non lo so che cosa fate con gli oli ma guarda in effetti ogni tanto ci chiamano le piccole streghette anche al lavoro perché noi facciamo le pozioni magiche come dicono i nostri clienti eh niente li usiamo per tutti i trattamenti quindi dal trattamento di iso alla al trattamento di corpo nei fanghi vengono messi vengono aggiunti gli oli alcune volte in base ai sicuramente in base alla gli anestetismi che troviamo ma alcune volte viene fatto aggiungere anche un olio pescato perché l'olio non sbaglia mai l'olio è l'olio è lui che ti sceglie e non sei tu a scegliere l'olio e quindi non so da un trattamento corpo vengono messi gli oli non so per dimagrire per aumentare il metabolismo ma viene sempre aggiunto un olio pescato dalla cliente proprio per e questo se mi permetti tu ti ricordi Cristina che io la prima volta che vieni da te io non sapevo neanche cos'erano gli oli ho detto dai fammi un massaggio no ed ero andata perché ricordo era un massaggio di riflessologia plantare nel suo studio conoscono anche la riflessologia plantare e quando Cristina mi disse pesca un olio tra me e me ho detto ma che vuole ho dovuto ricredermi perché erano di una potenza poi è vero che gli oli sono molto versatili quindi adesso tra i nostri ascoltatori magari c'è a chi potrebbe sembrare strana questa cosa però a volte se viene presa come l'avevo presa io un po come dire ma figurati caspita mi erano usciti tre oli e io Cristina che non la vedevo da tempo non poteva sapere che cosa mi stava succedendo in quel momento e sono usciti tre oli io ero lì per fare un massaggio quasi di piacere giusto perché so che loro fanno anche la Roma Touch poi se vuoi parliamo anche di quello ma quando ho estratto quegli oli e mi ha diciamo letto le carte non in senso da cartomante però mi ha parlato del significato degli oli che avevo scelto a me si è aperta la mandibola e ho detto ma come fa questa sapere che io poi tra l'altro con la riflessologia plantare gli oli eccetera un paio di problemini nell'immediato si sono risolti ma in realtà da lì ho visto muoversi anche proprio nella mia vita delle dinamiche incredibili no e da lì ho detto urca mi si è aperto un mondo è vero Cristina quindi ecco l'olio pescato a caso ho voluto fare questa precisazione perché è veramente molto potente quindi in tutti i trattamenti in tutti i trattamenti viene aggiunto oltre agli oli che vanno bene per quel trattamento viene l'olio l'olio pescato dalla cliente ok e prima abbiamo nominato l'aroma touch è uno delle miscele giusto di di do terra ma c'è proprio la tecnica di massaggio di aroma touch è fatto ok con l'olio aroma touch ma è fatto con un insieme di di otto oli che vengono messi con un ordine ben preciso e con delle manualità ben precise ogni olio vibra a una determinata profondità e va a portare diversi benefici io posso dire che è una roba è bellissima perché da lì ogni volta che passo dalle parti di Cristina sono il campanello fai di me quello che vuoi ed è un'esperienza tra l'altro se posso io poi sotto nei link del video metto anche i tuoi contatti è perché è una cosa non sono tantissime le persone competenti nella nella aroma touch vero e originale troverete tante estetiste che massaggiano con gli oli benissimo ma il vero aroma touch è è una cosa molto precisa quindi se tu sei al tuo permesso metterò i tuoi tuoi dati di contatto del tuo studio ovviamente dove lavori e ecco e poi va beh in tutti gli ambiti dicevi ma adesso 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 ti sfido vediamo se vediamo se la cristina veramente preparata posso chiederti qualsiasi cosa vai vediamo se ce la posso fare accendiamo non lo so non so mi viene in mente per esempio che stamattina ho tolto lo smalto e ho le ma le le unghie un po un po secche un po rovinate eh dai ho detto una cosa che mi è venuta in mente poi in realtà è una delle cose più più facili anche perché io anche lì eh ho vari olietti al lavoro preparati ovviamente da me con dove c'è un olio vettore quindi un olio base che potrebbe essere un olio di mandorle io uso l'olio di sesamo perché è un pochettino eh più leggero meno meno corposo e quindi per i lavori che devo fare mi va meglio e ci metto gli oli essenziali in base alle problematiche appunto delle delle mani eh per un'unghia che si spalda soprattutto dopo lo smalto soprattutto dopo aver fatto dei gel per tanto tempo l'unghia è molle è è poco elastica oppure alcune volte si spalda va benissimo un pocettino piccolino con dell'olio appunto se uno non ha niente va bene anche l'oliva se no vedi un olio vettore tipo cocco secolo di do terra è già frazionato vedi ancora o se no comunque quello che si ha con del limone olio essenziale di limone eh ce l'ho e olio essenziale di rosmarino io dico questi due per chi fa questi trattamenti perché aiutano il limone è un un bel antivatte è un disinfettante più che altro è comunque un energizzante il rosmarino va a aumentare un pochino la crescita va benissimo anche per i capelli per esempio per chi gli vuole più lunghi o più più belli robusti ma soprattutto appunto perché va a dare un po' di necessità alle unghie nel caso dovessero anche aver fatto magari la semi permanente o soprattutto aver fatto gel e avere magari delle vicosi sotto allora aggiungerei un pochino di malaleuca ah malaleuca per i comuni è titri il titri anche io ho imparato è un antibatterico e quindi è antifungineo quindi dovessero esserci dei fumi delle vicosi aiuta anche in quel caso ok fantastico cioè io dico le persone adesso pensano ci siamo messi d'accordo però io vi assicuro che io quando ho un dubbio io prendo il telefono e cristina mi risponde così perché è veramente molto molto preparato infatti nel team è una delle persone di riferimento abbiamo già imparato a conoscere anche lucia che anche anche la estetista ma naturopata quindi io sono veramente contenta perché ho un team di persone molto molto preparate quindi è bellissimo e adesso eh a me è venuta in mente una cosa adesso cristina io la butto così poi eh quando chiudiamo la registrazione mi insulterà però stavo pensando che a me mi stanno venendo mille domande ti avrei chiesto però se io l'unghia così ma c'è adesso c'ho anche e sono i dubbi che hanno tutti no quindi per stavo pensando perché non creare una rubrica sulla sulla bellezza con gli oli essenziali non so a seconda dei della tua disponibilità so che sei molto molto presa sul su dei consigli per le donne poi magari anche per la bellezza degli uomini anche l'uomini l'uomo l'uomo che si cura è peggio di una donna ok quindi li avremo tutti in incognita ma eh anche per gli uomini quindi sulla sulla bellezza no sulla parte estetica un appuntamento eh settimanale ogni quindici giorni eh dedicato esclusivamente alla bellezza eh nel link sotto le persone possono mandare delle domande siano delle richieste specifiche o se no di volta in volta eh dirò le mie richieste oppure quello che ci verrà in mente di ma allora se vuoi ti rispondo subito eh secondo me va bene ogni quindici giorni perché tutte le settimane diventa un pochino troppo e non si fa in tempo magari a concentrare bene le domande sarebbe bello avere le domande del di chi ci ascolta anche perché magari noi parliamo di un argomento invece loro magari interessa di più un altro quindi sarebbe bello avere la domanda e noi rispondiamo alla domanda e se invece va bene non dovesse ci domande prepariamo noi un argomento e parliamo di quell'argomento ok perfetto allora poi dopo eh a fine puntata ci mettiamo d'accordo e pubblicheremo eh sia sulla pagina Facebook che Instagram il quando magari creiamo l'evento e eh e faremo la puntata sulla bellezza che ovviamente registreremo per chi ci segue su YouTube mettete un mi piace collegatevi al canale iscrivetevi al canale così sarete immediatamente avvisati dei nostri eventi delle nostre iniziative eh se vi è piaciuto questo video questa intervista con Cristina che io ringrazio tantissimo mettete mi piace e mh e vi svelerò altri segreti sulla famiglia do terra nelle prossime puntate quindi per adesso io ringrazio Cristina eh la saluto per la per la sua grande disponibilità e quindi alla prossima grazie Cristina grazie a te ciao buona serata ciao 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 ciao